La bellissima Miriam Leone, sex symbol di attuale nonché recente bellezza, pensate che starebbe girando una nuova serie intitolata 1994. Sarebbe il sequel di 1992 e 1993. In settimana la key, pensate che avrebbe deciso di andare a pubblicare delle foto direttamente sul set della fiction in questione che andrà in onda su Sky Atlantic. Nelle immagini si vede la bella Miriam che va a interpretare il ruolo di Veronica Castello con la compagnia di Guido Caprino nel ruolo di Pietro Bosco. La passione all'inizio è molto forte, è diciamo così parese, lancinante, poi però andrebbe a sfociare nella violenza e la bella Miriam andrebbe a finire direttamente in lacrime. Una trama, diciamo così, piuttosto insolita ma piacevole. Nelle prime due stagioni Veronica e Pietro infatti avevano avuto una relazione piuttosto forte, piuttosto chiamiamola carnale, che però sarebbe finita piuttosto male. Dalle foto però qualcosa sarebbe vicino a un ritorno di fiamma, anche se non sarebbe di certo una situazione di piena felicità in maniera completa. Grazie per la visione, grazie per l'ascolto, le foto sono molto belle, sono molto sensuali, sono molto appariscenti, dimostrano, incantano e rendono appalese verità, la bellezza e la sensualità di questa venere moderna, come direbbe il buono Andrea Di Pre. Un saluto, complimenti a Miriam Leone e al prossimo video da narratore italiano.